La battipagliese del tecnico Vincenzo Fusco, vittoriosa contro la capolista Agropoli, in previsione della gara con il Faiano, altro derby molto sentito, sta preparando al meglio la trasferta, che con la conquista di ulteriori punti allontanerebbe le zebrette dalla zona calda della classifica. Il match della ventiquattresima giornata di campionato di eccellenza e girone B è in programma domani alle ore 15 allo stadio comunale Gian Natasio di Gifuri.